Quando ho cominciato il mio primo stage in un'azienda di comunicazione mi fu chiesto di fare un super salto fuori dalla mia zona di comfort. Il mio compito era quello di vendere spazi pubblicitari ad aziende via telefono, qualcosa che non sapevo fare nemmeno in italiano e che all'improvviso, senza peraltro alcuna preparazione, ero stata catapultata a fare in inglese. Non si trattava di uno stage retribuito, ovviamente, ma per incentivarmi mi avevano promesso una piccola commissione per ogni spazio che avessi venduto. Vuoi sapere com'è andata? Te lo dico tra un secondo. Prima però sono entusiasta di annunciarti che il mio primo libro, Insicure di Successo, è già prenotabile online dal link che vedi qui sotto e sarà disponibile in libreria a partire dal 24 settembre 2019. Insieme andremo oltre il giudizio e le aspettative degli altri, o perlomeno ci proveremo. Valorizzeremo i nostri dubbi e le nostre debolezze e perché no anche i nostri fallimenti, provando a trasformarli in opportunità. Scopriremo una forza che pensavamo di non avere affatto. Con Insicure di Successo, ribaltiamo la prospettiva e scopriamo che in fin dei conti abbiamo già tutto quello che ci serve. È il momento che a definire chi siamo non sia più il risultato finale, ma il nostro coraggio di rialzarci e riprovarci, ogni giorno un passo alla volta. Ma torniamo a noi. Dopo aver ricevuto più insulti in quei pochi mesi di stage di quanti ne abbia mai ricevuti fino a quel momento della mia vita e dopo momenti di totale sconforto perché non riuscivo a combinare un bel nulla, mentre la mia collega, non che moglie del mio capo, sembrava riuscire a convincere anche i clienti più difficili, promise a me stessa che non avrei mai più lavorato sul web per il resto della mia vita. Non solo, ma da quell'esperienza in poi, chiamare le persone al telefono avrebbe rappresentato una vera e propria sfida per me. Oh sì. Eppure mi ero buttata con coraggio in questa nuova avventura. Possibile che le conseguenze si fossero rivelate così catastrofiche, quindi forse non dovevo provare affatto. Beh, con il senno di poi tutto ha acquisito un senso. Sono convinta ci sia un luogo e un tempo per provare qualcosa di completamente nuovo e testare i tuoi limiti. Non ha senso improvvisare senza alcuna preparazione. L'entusiasmo e la motivazione sono sicuro fondamentali, ma da soli non bastano. Abbiamo bisogno di essere equipaggiati con gli strumenti che ci permettano perlomeno di aumentare le nostre possibilità di successo, se non proprio di garantirlo. Non solo, ma anche quando sei preparato, uscire dalla zona di comfort per metterti in gioco è qualcosa che puoi fare a piccoli passi, senza per questo diminuirne gli effetti di crescita e miglioramento, anzi aumentandoli. Ad esempio, quando ormai quasi dieci anni fa ho cominciato il mio primo progetto sul web, anche se mi ero ripromessa non l'avrei mai più utilizzato, invece che fare un enorme salto nel buio rischiando che la paura si mangiasse tutta l'energia creativa di cui avevo bisogno per fare del mio meglio, sono uscita dal seminato un piccolo passo alla volta. Parlare in pubblico era per me una delle sfide più grandi, si trattasse di farlo al telefono oppure in una riunione o che il cielo mi risparmiasse ad un evento di fronte a un sacco di persone. E però sapevo che se volevo far conoscere la mia attività ad un pubblico dovevo pur cominciare a parlarne, così invece che mettermi subito a fare cose che mi avrebbero comunque bloccato completamente, anche se mi sarebbe piaciuto farle come salire su un palco, sono partita registrando brevi video che caricavo su YouTube con cui ho cominciato piano piano ad allenare le mie abilità di comunicazione e a superare un passo alla volta la mia timidezza. Potremmo dire che ho scoperto un sistema efficace per mettermi in gioco senza farmela sotto e quel sistema esiste anche per te se sei disposta a rallentare, a fare un piccolo passo indietro e cominciare a sperimentare. Ora chiariamo una cosa, questo non vuole essere un invito a non metterti in gioco come potresti, è un invito a darci il permesso di continuare a migliorarci senza rischiare di bruciarci subito, il permesso di lasciare andare quello che tutti dicono dovresti fare e come dovresti farlo e quando dovresti cominciare a farlo, scegliendo invece una strada che possiamo percorrere con entusiasmo e senza troppa ansia che ci tormenti. Ripeto, un piccolo passo alla volta fuori dalla nostra zona di comfort. A mio avviso i grandi salti nel buio sono sopravvalutati, in un mondo dove sembra che se non spacchi subito allora te ne devi andare a casa con la coda tra le gambe. Sopravvalutati e inutilmente stressanti. E allora pensaci per un secondo, qual è un piccolo passo oltre la tua zona di comfort che potresti fare nei prossimi tre o cinque minuti per avvicinarti al tuo sogno senza farti paralizzare dalla paura? Fammelo sapere nei commenti qui sotto, non vedo l'ora di leggerti e mi raccomando non dimenticare di prenotare la tua copia di Insicure di Successo e di regalarla a tutte le donne della tua vita.